video 32 parte 13 come ho dipinto questa foresta al tramonto dipingo i cespugli sotto gli alberi di nero i mix di giallo con il colore arancione e dipingere i riflessi del sole aggiungo vernice bianca e fare un marrone medio io uso questo marrone per dipingere un sentiero nella foresta aggiungo colore bianco e arancio e dipingo i riflessi del sole questa lezione continua in parte 14 15 16 15 18 19 20 20 Grazie a tutti